Bentornati a tutti sul mio canale. In questo video ci saranno i capitoli 15 e 16 della Bussola d'Oro di Philip Pullman. Iniziamo subito, capitolo 15. I Diamond in Gabbia. Non era nel carattere di Lyra Starly ad angustiarsi troppo. Era una ragazza ottimista e concreta. E poi non aveva certo un'immaginazione particolarmente sbirigliata. Una persona dall'immaginazione sviluppata non avrebbe mai potuto seriamente pensare che fosse possibile fare tutta quella strada e venire a salvare il suo amico Roger. Oppure, se ci avesse pensato, una bambina ricca di fantasia avrebbe immediatamente trovato un sacco di ragioni per cui tutto ciò sarebbe stato impossibile. Essere un'esperta mentitrice non significa avere una gran bella fantasia. Molti buoni mentitori di immaginazione non ne hanno affatto. È proprio questo che permette loro di dire bugie con gli occhioni spalancati e pieni di convinzione. Ora che si trovava nelle mani dell'intendenza per l'oblazione, Lyra non si lasciò invadere dal terrore per quel che poteva essere accaduto ai giziani. Erano dei buoni combattenti, tutti quanti, e anche se Pantalaimon aveva visto che John Faye era stato colpito, poteva essersi sbagliato. O, se non l'aveva fatto, la ferita poteva non essere troppo grave. Era stata una sfortuna cadere nelle mani dei Samoyedi, ma ben presto sarebbero arrivati i giziani a salvarla. E se anche non ci fossero riusciti, nulla avrebbe potuto impedire a Jorek Burninson di tirarla fuori di lì. E allora sarebbero andati in volo a Svalbard, sul pallone di Lee Scorsby, a salvare Lord Asriel. Nella sua testa, insomma, era tutto semplicissimo. E così, il mattino dopo, quando si svegliò nel dormitorio, era piena di curiosità e pronta ad affrontare qualunque cosa la giornata dovesse portarle. E impaziente di vedere Roger e soprattutto di individuarlo prima che lui la riconoscesse. Non le toccò aspettare a lungo. I bambini dei vari dormitori venivano svegliati alle sette e mezzo dalle infermiere cui erano affidati. Una volta lavati e vestiti, si avviavano con gli altri nella sala mensa per far colazione. E lì trovò Roger. Era seduto con altri cinque ragazzi a un tavolo subito accanto alla porta. La coda per prendere i vassoi passava proprio accanto a loro. E così lei poteva far finta che le fosse caduto un fazzoletto e si chinò a raccoglierlo, abbassandosi fino a terra vicino alla sua sedia. Così da permettere a Pantalaimon di parlare con il daimon di Roger, Salciglia. Questa, che era un fringuello, sbatte le ali in un frullio, così incontrollato che Pantalaimon dovete diventare un gatto e balzarle addosso, inchiodandola a terra per parlarle all'orecchio. Simili vivaci, scontri o baruffe tra i daimon dei bambini erano piuttosto frequenti, per fortuna, e nessuno se ne occupava con particolare attenzione. Ma Roger impalidì immediatamente. Lyra non aveva mai visto una persona sbiancare così. Lui alzò gli occhi e incontrò lo sguardo vacuo e austero di Lyra, e il colore rifluì alle sue guance, e il suo cuore traboccò di speranza, eccitazione e gioia. E dovette pensarci Pantalaimon, scuotendo Salciglia con decisione, a impedire a Roger di mettersi a saltar su gridando per salutare la sua compagna di giochi del Jordan. Lyra distolse lo sguardo, fingendo tutto il disdegno di cui era capace, e roteò gli occhi all'indirizzo delle sue nuove amiche, lasciando a Pantalaimon il compito di dare le necessarie spiegazioni. Le quattro ragazze presero i loro vassoi di fiocchi d'avena e pane tostato, e si sedettero insieme, immediatamente una banda a parte, escludendo tutti gli altri per poter meglio spettegolare su di loro. È semplicemente impossibile tenere un gruppo di bambini in un posto per lungo tempo senza dar loro un sacco di cose da fare per tenerli occupati. E per certi aspetti Bolvangar era condotta come una scuola, con un orario per tutta una serie di attività, come la ginnastica o le attività artistiche. Ragazzi e ragazze venivano tenuti separati, tranne che durante le ricreazioni e al momento dei pasti. E così fu solo a metà della mattinata. Dopo un'ora e mezzo di cucito, sotto la direzione di una delle infermiere, che Laira ebbe la possibilità di parlare con Roger. Solo che doveva sembrare una cosa casuale e naturale. E lì stava la difficoltà. Tutti i ragazzini, infatti, erano più o meno della stessa età, che era in cui i maschi parlano con i maschi e le femmine con le femmine. E tutti e due i gruppi stanno attentissimi a ignorarsi reciprocamente. Di nuovo la possibilità si presentò a Mensa, dove erano stati portati per prendere qualcosa da bere e qualche biscotto. Laira mandò Pantalaimo in forma di mosca, a parlare con Salsiglia sulla parete accanto al loro tavolo, mentre sia lei che Roger se ne stavano tranquilli con i loro due diversi gruppetti. Era difficile chiacchierare con qualcuno, mentre uno aveva il daimo occupato a far qualche altra cosa. E così Laira assunse un'aria scontrosa e ribelle e sorbì sull'atte insieme alle altre ragazze. Buona parte dei suoi pensieri erano occupati a seguire il tenero onzio della conversazione tra i due daimo. E lei non stava ascoltando sul serio. Ma a un certo punto sentì un'altra ragazza dai capelli di un biondo acceso fare un nome che la fece rizzare sulla sedia. Era il nome di Tony Macarius. Nel momento in cui Laira rivolse di colpo la sua attenzione a quel discorso, Pantalaimo dovete rallentare la sua conversazione sottovoce con i daimo di Roger. E tutti e due ragazzini ascoltarono ciò che stava dicendo l'altra ragazza. «Lui lo so io perché lo hanno preso», disse mentre le teste le si accostavano da tutte le direzioni. «È perché il suo daimo non cambiava forma. Hanno pensato che lui fosse più grande di quel che sembrava, o qualcosa del genere, e che non era per davvero un bambino. Però in realtà il suo daimo non cambiava forma molto spesso perché anche Tony non stava mai a pensare a un granché di niente. «Ma io l'ho vista mentre cambiava. Si chiamava Ratter. Ma perché si interessano tanto ai daimo?», chiese Laira. «Non si sa», disse la ragazza bionda. «Lo so io», si intromise un ragazzo che era stato a sentire. «Quello che fanno è che uccidono il tuo daimo e poi vedono se muori anche tu». «E allora come mai stanno lì a farlo a tanti ragazzini diversi?», disse qualcuno. «Gli sarebbe bastato farlo una sola volta, no?». «Io lo so quello che fanno», disse la ragazza che aveva parlato per prima. Ora godeva dell'attenzione di tutti. Però, dato che non volevano far capire sorveglianti di cosa stavano parlando, erano costretti ad assumere uno strano atteggiamento di semi indifferenza, mentre in realtà ascoltavano con appassionato interesse. «E come mai?», disse qualcuno. «Perché ero con lui quando sono venuti a prenderlo. Eravamo nella stanza della biancheria», disse lei. «Era tutta rossa». Ma se si era attesa di venire presa in giro o schernita, si sbagliava. Tutti i bambini erano calmi e controllati e nessuno abbozzò neppure un sorriso. La ragazza proseguì. Ce ne stavamo buoni e zitti e allora è entrata all'infermiera, quella con la voce gentile, e ha detto «Vieni fuori, Tony. Lo so che sei qui. Dai, non ti facciamo niente». E lui dice «Ma cosa deve succedere?». E lei dice «È solo che ti mettiamo a dormire e poi ti facciamo una piccola operazione e poi ti sveglierai e starai benissimo». Solo che Tony non ci crede mica e dice «I buchi», disse qualcuno, «ti fanno un buco in testa come i tartari. Ci scommetto. Sta zitto». «E che altro ha detto l'infermiera?», si inserì qualcun altro. Oramai c'erano almeno una dozzina di bambini raggruppati attorno al suo tavolo, con i daimo ansiosi di sapere quanto loro, tutti tesi e con gli occhi spalancati. La ragazza bionda proseguì. Tony voleva sapere che cosa volevano fare a Ratter, no? E l'infermiera dice «Beh, metteremo a dormire anche lei, proprio come te». E allora Tony dice «La volete ammazzare, vero, eh? Lo so benissimo. Lo sappiamo tutti quanti che è questo che ci succede». E l'infermiera dice «Ma no, certo che no. È solo una piccola operazione, solo un taglietto. In realtà non fa per niente male, ma ti facciamo dormire solo per sicurezza». In tutta la sala era scesa la calma. Le infermiere che si occupavano della sorveglianza erano uscite un momento e lo sportello che dava sulla cucina era chiuso, così che da lì non poteva sentirli nessuno. «Ma che tipo di taglio?» chiese un ragazzo. La voce calma e piena di paura. «Lo ha detto che tipo di taglio è?» Ha detto solo che è una cosa per farti crescere. Ha detto che è una cosa che devono fare tutti. È per questo che i daimon dei grandi non cambiano di forma come i nostri, cioè gli fanno un taglio per farli prendere una certa forma per sempre. Ed è così che si diventa grandi. «Ma… insomma, questo vuol dire che… ma come? A tutti quanti i grandi li fanno questo taglio?» Ma allora? D'improvviso tacquero tutte le voci. Quasi fossero state tagliate esse stesse e tutti gli occhi si volsero alla porta. C'era sorella Clara con il suo atteggiamento di vacua indifferenza e la sua praticità e accanto a lei c'era un uomo in camice bianco che Lyra non aveva mai ancora visto. «Briget McGinn», disse quest'ultimo. La ragazza bionda si alzò tremante. Il suo daimon scogliattolo le si aggrappava al petto. «Sì, signore?» rispose con voce appena audibile. «Finisci il latte e poi vai con sorella Clara», disse. «Voi altri invece sbrigatevi e andate nelle vostre aule». Obedienti, i bambini sistemarono uno sull'altro i boccali sui carrelli d'acciaio, inossidabile prima di andarsene in silenzio. Nessuno guardò Bridget McGinn, salvo Lyra, che vide un viso acceso di paura. Il resto della mattinata fu dedicato alla ginnastica. C'era una piccola palestra alla stazione, perché è ben difficile tenersi in esercizio all'aperto nella lunga notte polare. E i vari gruppi di bambini fecero a turno per giocare lì dentro, sotto la supervisione di un'infermiera. Dovetero formare delle squadre e lanciare qua e là dei palloni. E all'inizio Lyra, che non aveva mai fatto un gioco del genere in vita sua, si sentì un po' persa. Però era svelta e atletica. E fatta per primeggiare. E ben presto si accorse che si stava divertendo. Le grida dei bambini, le strida e i fischi dei diamond riempirono la piccola palestra e in fretta scacciarono ogni pensiero pauroso. Il che, com'è ovvio, era proprio lo scopo di quell'esercizio. All'ora di pranzo, mentre i bambini erano di nuovo nella sala mensa, Lyra sentì Pantalaimo emettere un cinguettio di saluto e si voltò, trovandosi Billy Costa, giusto alle spalle. «Roger mi ha detto che eri qui», borbottò. «C'è tuo fratello che sta per arrivare, insieme a John Fa, e ha un'intera banda di egiziani», disse lei. «Ti riporteranno a casa». Poco manco che lui si mettesse a gridare di gioia, ma riuscì a reprimere l'urlo facendone un colpo di tosse. «E mi devi chiamare Lizzi», disse Lyra. «Assolutamente mai Lyra». «E mi devi dire tutto quello che sai, capito?» Si sedettero insieme, con Roger poco distante. A pranzo era più facile, visto che i bambini stavano più a lungo ad andare a venire fra i tavoli e lo sportello da cui venivano serviti, e la mensa era affollata. Coperti da l'accettolio dei piatti, coltelli e forchette, Billy e Roger dissero a Lyra tutto quel che sapevano. Billy aveva sentito da un'infermiera che i bambini che avevano subito l'operazione venivano spesso portati in alcuni pensionati più al sud, il che poteva spiegare come aveva fatto Tony Macarius a perdersi in quelle terre desolate. Ma Roger aveva da riferire una cosa ancora più interessante. «Ho trovato un posto dove nascondersi», disse. «Cosa? Dove? Lo vedi quel quadro?» voleva dire il grande fotogramma della spiaggia tropicale. «Se guardi nell'angolo in alto a destra, lo vedi quel pannello sul soffitto?» Il soffitto era fatto di ampi pannelli rettangolari inseriti in una cornice di strisce metalliche e un angolo del pannello al di sopra del quadro era leggermente sollevato. «Quando l'ho visto», disse Roger, «ho pensato che gli altri potevano essere fatti allo stesso modo e allora ho provato ad alzarli. E sono tutti liberi. Si possono alzare senza difficoltà. Io e quell'altro ragazzo ci abbiamo provato una notte nel nostro dormitorio prima che lo portassero via. C'è dello spazio lassù e uno ci si può strisciare dentro. E fino a dove si può arrivare strisciando? Boh, noi siamo andati avanti solo per un po'. Avevamo pensato che quando era il momento potevamo nasconderci lassù, ma probabilmente ci avrebbero ritrovato. L'aera ci vide non un nascondiglio, ma una strada. Era la cosa migliore che avesse sentito da quando era arrivata lì. Prima però che potessero dirsi altro, un medico battesse un tavolo con cucchiaio e presa a parlare. «Sentite, bambini», disse, «ascoltatemi bene. Una volta ogni tanto bisogna che facciamo un'esercitazione anti-incendio. È molto importante che tutti quanti ci vestiamo nel modo giusto e usciamo all'aperto senza lasciarci prendere dal panico. Quindi, oggi pomeriggio, faremo un'esercitazione pratica anti-incendio. Quando sentirete il suono della campana, dovete smettere di fare qualsiasi cosa stiate facendo e fare quello che vi dice la più vicina persona grande. Ricordatevi del posto dove vi porteranno. È proprio in quel posto che dovrete andare se mai dovesse scoppiare un vero incendio». «Beh», pensò l'aera, «questa è proprio una buona idea». Nella prima parte del pomeriggio, l'aera e altre quattro ragazze vennero esaminate in cerca della polvere. I dottori non dissero che si trattava di questo, ma si capiva facilmente. Una a una vennero condotti in un laboratorio, e ovviamente ciò le spaventò moltissimo. «Quanto sarebbe stato crudele», pensò l'aera, «se avesse dovuto morire senza neppure riuscire ad assestare loro almeno un colpo. Ma comunque quell'operazione non le l'avrebbero fatta proprio in quel momento», pareva. «Vogliamo eseguire alcune misure», spiegò il dottore. «Era difficile distinguere l'una dall'altra quelle persone. Gli uomini parevano tutti uguali, con i camici bianchi, i blocchi per appunti e le matite. E le donne si assomigliavano l'una all'altra anche loro, con l'uniforme e quel loro strano atteggiamento blando e calmo che le facevano sembrare tutte sorelle. «A me mi hanno misurato ieri», disse l'aera. «Oh, oggi facciamo delle misure diverse. Mettiti su quella piastra di metallo. Oh, togliti le scarpe prima. Stringi pure i tuoi diamond se vuoi. Guarda avanti così. Fissa quella lucetta verde. Brava!» Qualcosa lampeggiò. Il dottore la fece voltare dall'altra parte, e poi a destra e a sinistra. E ogni volta ci fu un clic e un lampo. «Così va bene. Ora vieni qui a questa macchina e metti le mani in quel tubo. Non ti farà niente, te lo prometto. Radrizza le dita. Ecco fatto». «Ma che cosa state misurando?» disse lei. «La polvere?» «Chi ti ha detto della polvere?» «Una delle altre ragazze. Non so come si chiama. Ha detto che eravamo tutti coperti di polvere. Solo che io non sono impolverata per niente. Almeno credo di no. Mi sono fatta la doccia ieri. Ah, questo è un altro tipo di polvere. Non si può vedere a occhio nudo. È una polvere speciale. Adesso chiudi il pugno. Bene. Adesso, se tasti là intorno, troverai una specie di maniglia. Ci sei?» «Ora fai la brava. Acchiappala. Metti l'altra mano da questa parte. Appoggiala su quest'altra palla, di ottone. Bene, brava. Ora sentirei un po' di pizzicorino. Non è nulla di cui preoccuparsi. Solo una lieve corrente ambarica. Pantalaimon, nella forma di un gatto selvatico, estremamente teso e diffidente, camminava su e giù con occhi veloci come il lampo, pieno di sospetto, attorno all'apparato e tornava continuamente a strofinarsi all'Aira. A questo punto si sentiva sicura che non le avrebbero fatto l'operazione, per il momento, e anche che la sua identità come Lizzie Brooks era accettata da tutti senza dubbi. E quindi arrischiò una domanda. «Ma perché tagliate via i daimon alla gente?» «Cosa? Chi ti ha parlato di questo?» «Quella ragazza, non so come si chiama, ha detto che voi tagliate via i daimon alla gente. Che sciocchezza!» Però era agitato. Lei continuò. «Perché prendete la gente uno a uno e quelli poi non tornano più indietro. E c'è qualcuno che dice che le ammazzate basta e altri dicono altre cose. E questa ragazza mi ha detto che tagliate...» «Non è vero proprio per niente. Quando portiamo via i bambini di qui, lo facciamo perché è ora per loro di trasferirsi in qualche altro posto, perché stanno diventando grandi. Ho paura che la tua amica si stia allarmando inutilmente. Non c'è proprio nulla di vero. Non pensarci neppure. Chi è la tua amica?» «Sono arrivata solo ieri e non so i nomi di nessuno. Com'è fatta?» «Non lo so. Mi pare che ha capelli tipo castani. Castano chiaro, forse». «Bo?» Il dottore andò a parlare sotto voce con l'infermiera. Mentre quei due conferivano tra loro, Lyra osservò attentamente i loro daimon. Quello dell'infermiera era un grazioso uccellino, tutto pulitino e indifferente proprio come un cagnolino della sorella Clara. E quello del dottore era una falena grossa e pesante. Nessuno dei due si muoveva. Erano svegli, perché gli occhi dell'uccello erano brillanti e le antenne della falena ondeggiavano languidamente. Ma erano tutt'altro che animati, come lei si sarebbe attesa che fossero. Forse in realtà non erano per niente ansiosi né curiosi. Poi il dottore tornò da lei e proseguirono con gli esami, pesando lei e Pantalaimon separatamente, guardandola da dietro uno schermo speciale, misurandola ai battiti del cuore, piazzandola sotto un ugello da cui usciva un fischio e che emetteva un odore che pareva un soffio d'aria fresca. Nel bel mezzo di uno di quegli esami una rumorosa campana cominciò a suonare e continuò senza smettere. L'allarme è antincendio, disse il dottore, sospirando. Molto bene Lizzi, vai con sorella Betty. Ma tutti i loro vestiti pesanti sono giù nell'edificio dei dormitori, dottore. Non può mica uscire così. Dobbiamo andare prima lì, secondo lei. Lui era scocciato di aver dovuto interrompere i suoi esperimenti e schioccò le dita con irritazione. Suppongo che questo sia proprio il tipo di problemi che le esercitazioni devono far venire fuori, disse. Che scocciatura. Quando sono venuta ieri, disse Laira, piena di voglia di collaborare, sorella Clara ha messo le mie cose in un armadio della prima stanza, dove mi ha controllato. Quella qui accanto, potrei mettermi quelle. Buona idea, disse l'infermiera. Sbrighiamoci allora. Con segreta soddisfazione, Laira corse lì con l'infermiera, recuperò le pellicce, i gambali e gli stivali, quelli buoni, e li indossò in fretta, mentre anche l'infermiera indossava la sua carbonseta. Poi corsero fuori, nell'ampio spiazzo di fronte al principale gruppo di edifici. Forse un centinaio di persone, bambini e adulti, si muovevano disordinatamente qua e là. Alcuni irritati, altri agitati, altri ancora semplicemente imbambolati. Vedi, stava dicendo uno degli adulti, vale la pena di farlo per rendersi conto del caos in cui ci troveremo se davvero dovesse esserci un incendio. Qualcuno stava cercando di attirare l'attenzione di un fischietto e agitando le braccia, ma nessuno li baddava granché. Laira vide Roger e lo chiamò. Roger diede uno strattone a un braccio di Billy Costa. E poco dopo, tutti e tre si trovarono insieme in mezzo a un vortice di bambini che correvano da tutte le parti. «Nessuno ci farà caso se diamo un'occhiata in giro», disse Laira. «Ci metteranno dei secoli per contare tutti quanti. E possiamo sempre dire che non abbiamo fatto altro che andare dietro a qualcuno e ci siamo perduti». Aspettarono un momento in cui la maggior parte degli adulti guardava dall'altra parte. E poi Laira raccolse un po' di neve. La pressò in una specie di palla farinosa e la tirò a caso in mezzo alla folla. In un momento tutti i bambini cominciarono a fare lo stesso e l'aria si riempì di neve volante. Grida ridenti colpirono completamente gli adulti, che cercavano di riprendere il controllo. E poi i tre bambini svoltarono dietro un angolo e si trovarono fuori vista. Lo strato di neve era tanto alto che non riuscivano ad avanzare molto velocemente. Ma pareva che andasse bene così. Nessuno li stava seguendo. Laira e gli altri si arrampicarono sopra il tetto incurvato di uno dei tunnel e si trovarono in uno strano paesaggio lunare fatto di monticelli e avvallamenti, tutti fasciati di bianco sotto il cielo nero, illuminato dai riflessi delle luci disposte intorno allo spiazzo. «Cosa dobbiamo cercare?» disse Billy. «Non lo so, diamo un'occhiata in giro e basta», disse Laira, e si avviò verso un tozzo edificio quadrato, un po' separato dagli altri, con la luce ambarica di bassa potenza e un angolo. Il chiasso alle loro spalle non era affatto diminuito, ma si era fatto più distante. Chiaramente i bambini stavano approfittando al massimo di quei momenti di libertà e Laira sperava che avrebbero continuato così il più lungo possibile. Si mosse attorno all'edificio quadrato, cercando una finestra. Il tetto era non più di un paio di metri d'altezza e, contrariamente agli altri edifici, non aveva nessun tunnel coperto che lo collegasse al resto della stazione. Non c'era nessuna finestra, però c'era una porta. Una scritta al di sopra di essa diceva, a lettere rosse, «Divieto assoluto di entrata». Laira aveva messo la mano sulla maniglia per vedere se si apriva, ma prima che potesse farlo, Roger disse, «Guarda, un uccello! Oh!» Il suo «Oh!» era un'esclamazione di dubbio, perché la creatura che stava planando giù dal cielo nero non era affatto un uccello, era qualcuno che Laira aveva già visto una volta. «Il daimo della strega!» L'oca batte le grandi ali, sollevando dell'atterrare una nuvola di neve. «Ti saluto, Laira disse. Ti ho seguito fin qui, anche se tu non mi hai visto. Ho aspettato sperando che uscissi all'aperto. Cosa sta succedendo?» Lei lo aggiornò in fretta. «Dove sono egiziani?» chiese poi. «John Fa sta bene? Sono riusciti a cacciare via i Samoyedi?» «La maggior parte di loro sta bene. John Fa è ferito, anche se non gravemente. Gli uomini che ti hanno portato via erano cacciatori e banditi che spesso derubano i viaggiatori e da soli riescono a viaggiare più in fretta di un gruppo numeroso. I egiziani sono ancora a una giornata di distanza. I due ragazzi stavano fissando pieni di paura Loka Diamond e la familiarità di Laira nei suoi confronti, perché ovviamente non avevano mai visto prima un Diamond lontano dal suo umano e sapevano ben poco delle streghe. Laira disse loro «Sentite, fareste meglio a mettervi di guardia. Billy, tu vai da quella parte e tu, Roger, controlla la strada da cui siamo venuti noi. Non abbiamo molto tempo». I due si diressero di corsa ai punti indicati da Laira e lei tornò a occuparsi della porta. «Perché stai cercando di entrare lì dentro?» disse Loka Diamond. «A causa di quello che fanno qui. Loro tagliano. E qui abbassò la voce. Tagliano via i Diamond e li staccano dalle persone. Quelli dei bambini. E penso che forse potrebbero farlo qui. Se non altro, qui dentro qualcosa c'è. E volevo darci un'occhiata. Solo che è chiusa a chiave». «Posso aprirla io?» disse Loka e sbatte una o due volte le ali, gettando contro la porta un po' di neve. E contemporaneamente Laira sentì che dentro la serratura qualcosa si era messo a girare. «Entra, ma fai molta attenzione!» disse il Diamond. Laira tirò la porta e l'aprì vincendo la resistenza della neve. E si infilò dentro. Pantalaimon era agitato e impaurito, ma non voleva che il Diamond della strega vedesse quanto era spaventato. E così era volato in petto a Laira, trovando rifugio in mezzo alle sue pellicce. Non appena i suoi occhi si furono adattati alla luce, Laira capì perché. E una serie di scatole di vetro sistemate su degli scaffali intorno alle pareti c'erano tutti i Diamond dei bambini recisi, forme spettrali di gatti o uccelli o altre creature, tutti quanti attoniti e terrorizzati e pallidi come una nuvola di fumo. Il Diamond della strega emise un grido di rabbia. E Laira si strinse al seno Pantalaimon e disse «Non guardare, non guardare! Dove sono i bambini di questi Diamond?» chiese Locke a Diamond, tremando per l'ira. Laira spiegò tutta spaventata del suo incontro con i piccoli Tony Macarius e sbirciò da sopra la spalla quei poveri Diamond in gabbia, che si spingevano in avanti premendo i pallidi visi contro i vetro. Laira riusciva a sentire lievi grida di dolore e sofferenza. Nella fioca luce di un bulbo ambarico a bassa potenza poteva vedere che c'era un pezzo di carta di fronte a ogni gabbia, con un nome scritto sopra. E sì, ce n'era una vuota, ove si leggeva proprio Tony Macarius. Ce n'erano altre quattro o cinque, vuote e con sopra un nome. «Voglio liberare questi poveretti», disse lei ardentemente. «Adesso spacco i vetri e li faccio uscire». E si guardò intorno cercando un oggetto con cui farlo. Ma l'ambiente era tutto vuoto. Locke a Diamond disse «Aspetta». Era il Diamond di una strega, e molto più grande di lei e più forte. Non potei che obbedirli. Dobbiamo fare in modo che questa gente pensi che qualcuno di loro sia dimenticato di chiudere a chiave le gabbie e l'edificio», spiegò lui. «Se vedono i vetri spezzati e le tue impronte, quanto pensi che possa durare il tuo travestimento? E invece deve reggere fino a che non arriveranno egiziani. Quindi fai esattamente come ti dico. Prendi una manciata di neve, e quando te lo dico io, soffianne un pochino contro ognuna delle gabbie, una alla volta». Lei corse fuori. Billy e Roger erano sempre di guardia, e dallo spiazzo continuavano a venire rumori e grida e risate, visto che non era passato molto più di un minuto. Raccolse a due mani una grande manciata di neve leggera e farinosa, e poi rientrò per fare quel che le aveva detto Locke a Diamond. Ogni volta che soffiava un po' di neve su una gabbia, Locke emetteva della gola una specie di click, e il lucchetto si apriva da solo. Quando li abbia aperti tutti quanti, sollevò il pannello frontale della prima gabbia, e ne svolazzò fuori una palida forma di un passerotto, che però cadde a terra senza riuscire ad alzarsi in volo. Locke si chinò teneramente e lo raddrizzò con i becco, e passero divenne un topolino, barcolante e confuso. Pantalaimon balzò a consolarlo. Laera aggì in fretta, e nel giro di pochi minuti tutti i Diamond si trovarono liberi. Qualcuno cercava di parlare, e si radunarono tutti ai suoi piedi, e qualcuno cercò addirittura di aggrapparsi ai suoi gambali, anche se il grande tabù li teneva a distanza. Lei li capiva bene, poveretti. Sentivano la mancanza del peso, della solidità e del calore del corpo del loro essere umano, proprio come avrebbe fatto Pantalaimon a loro posto. Annelava stringersi a un cuore in cui battesse la vita. Svelti ora, disse Locke. Laera, ora devi tornare indietro di corsa e confonderti con gli altri. Sii coraggiosa, bambina. I giziani stanno arrivando il più fretta possibile. Io devo aiutare questi poveri Diamond a ritrovare i loro umani. Si avvicina ancora e disse Piano. Ma non saranno mai più una cosa sola. Sono separati per sempre. Questa è la cosa più malvagia che io abbia mai visto. Lascia stare le impronte che avete lasciato. Ci penserò io a cancellarle. Sbrigati adesso. Oh, ti prego, prima di andare via. Le streghe, loro sono capaci di volare, vero? Non stavo sognando quando le ho viste volare l'altra notte. Sì, bambina, perché? Sarebbero capaci di tirare un pallone? Certamente, ma... E se Rafina Peccala sta per arrivare? Non c'è tempo per spiegarti la politica delle nazioni delle streghe. In questa storia sono coinvolte delle potenze assai vaste e se Rafina Peccala deve salvaguardare gli interessi del suo clan. Ma è possibile che ciò che sta accadendo qui sia parte di ciò che sta accadendo altrove. Leira, c'è bisogno di te dentro. Corri, corri. Lei partì di corsa e Roger, che stava osservando a occhi spalancati i pali di Daimon che uscivano a fatica dall'edificio, avanzò verso di lei nella neve alta. Ma quelli? È come nella cripta del Jordan. Quelli sono Daimon. Sì, ma sta zitto. Non dirlo a Billy, però. Non lo di loro. L'oca sbatteva con forza le ali, sollevando la neve in modo da coprire le tracce che avevano lasciato. E accanto a lui i Daimon perduti si raggruppavano o si muovevano senza meta, emettendo piccole grida sperdute di desiderio e solitudine. Una volta coperte le impronte, L'oca si voltò per aggruppare insieme quei palli di Daimon. Parlò loro e una alla volta quelli cambiarono forma, anche se fu ben visibile lo sforzo, fino a che si furono tutti mutati in uccello, e come uccellini appena usciti dal nido seguirono il Daimon della strega. Fra frulli d'ali, cadute, corse dietro di lui sulla neve, e finalmente, con grande fatica, riuscendo a decollare. Si innalzarono in una linea irregolare, pallidi e spettrali contro il profondo cielo nero, innalzandosi piano, per quanto deboli e mal certi fossero alcuni fra loro, e pur se qualcuno si perdeva di coraggio e prendeva a lasciarsi scivolare verso terra. Ma la grande oca roteava intorno loro, e li stimolava a tornare insieme, guidandoli dolcemente, fino a che non si persero contro la profonda oscurità del cielo. Roger stava tirando l'aera per un braccio. «Sbrigati», disse, «hanno quasi fatto». Si allontanarono faticosamente e raggiunsero Billy, che li chiamava dall'angolo dell'edificio principale. I bambini si erano ormai stancati, o forse erano gli adulti che avevano recuperato un po' di controllo, visto che tutti quanti si stavano allineando confusamente presso il portone principale, fra urti e spintoni. L'aera e gli altri due si allontanarono inosservati dall'angolo, e si confusero con essi, ma non prima che l'aera dicesse. «Passate parola fra tutti, bisogna che siano pronti a scappare. Devono sapere dove si trovano i vestiti da indossare per uscire all'aperto, e tenersi pronti a metterseli e scappare fuori non appena daremo il segnale. E devono mantenere il segreto più assoluto, capito?» Billy a noi, e Roger chiese, «qual è il segnale?» «La campana dell'allarme antincendio», disse l'aera. «Quando sarà il momento, l'azionerò io». Attesero che venisse fatto l'appello. Se in tutta l'intendenza per l'oblazione ci fosse stato qualcuno che avesse mai avuto a che fare con una scuola, questa parte l'avrebbero organizzata meglio. Dal momento che non erano regolarmente suddivisi in gruppi più piccoli cui fare riferimento, per ognuno dei bambini bisognava controllare tutto quanto l'elenco, che ovviamente non era redatto in ordine alfabetico, e nessuno degli adulti era abituato a mantenere l'ordine in quelle situazioni. Di conseguenza vi fu un bel po' di confusione, malgrado il fatto che ormai tutti avessero smesso di correre in giro. L'aera osservava con attenzione, non erano affatto bravi a far questo. Era trascurata sotto un sacco di punti di vista. Questa gente si lagnava delle esercitazioni antincendio. Non sapevano dove dovevano stare i vestiti pesanti, non riuscivano a mettere in fila per bene i ragazzini, e la loro trascuratezza poteva tornarle utile. Avevano quasi terminato, quando si verificò un'altra distrazione. Peraltro, e dal punto di vista di l'aera, fu la peggiore che potesse capitare. Sentì rumore insieme a tutti gli altri. Le teste presero a levarsi e a esplorare il cielo in cerca dello zeppelin, del quale si sentiva chiaramente nell'aria ferma il rumore del motore. L'unica fortuna fu che arrivò dall'altra parte opposta, a quella in cui era volata via l'oca grigia. Ma questa era l'unica consolazione. Ben presto divenne visibile, e un mormorio di eccitazione percorse la folla. La sua forma grigia, grassa ma aerodinamica, giunse lentamente sopra i viali di luci, e altre luci, dirette verso il basso, divennero visibili sulla punta, e dalla cabina appesa sotto il corpo principale. Il pilota ridusse la velocità, intraprese la complessa manovra di riduzione dell'altezza di volo. L'aera realizzò allora a che serviva il robusto pilone. Ovviamente era un pilone di ormeggio. Mentre gli adulti spingevano i bambini all'interno e tutti indulgiavano a guardare e indicare con la mano, la ciurma di terra si arrampicò sulle scalette che portavano in cima al pilone e si preparò a fissare i cavi di ormeggio. I motori rombavano forte e sollevavano mulinelli di neve dal suolo, e i visi dei passeggeri si affacciavano dai finestrini della cabina. L'aera guardò, e non c'era da sbagliarsi. Pantalaimo le si strinse addosso, divenne un gatto selvatico, e si bilò con odio, perché lì, intenta a guardar fuori con curiosità, c'era la splendida testa di capelli neri della signora Colter, con in grembo i suoi diamond dorato. Capitolo 16. La ghigliottina argentata. L'aera nascose immediatamente la testa sotto il cappuccio di ghiottone e rientrò attraverso le doppie porte con gli altri bambini. Aveva tutto il tempo per preoccuparsi di quel che doveva dirle, quando si fossero trovate faccia a faccia. Prima aveva un altro problema da risolvere, che era quello di come nascondere le sue pellicce in un posto dove potesse riprendere senza dover chiedere permessi. Ma per fortuna tale era il disordine che regnava all'interno, con gli adulti che cercavano di far affrettare i bambini per liberare la strada ai passeggeri dello Zeppelin, che nessuno la osservò con grande attenzione. L'aera si sfilò il giaccone, stivali e gambali, e ne fece un fagotto, il più piccolo possibile, prima di infilarsi nel corridoio affollato che conduceva al suo dormitorio. In fretta tracinò un armadietto in angolo, ci si arrampicò sopra e diede una spinta al pannello del soffitto. Questo si alzò, proprio come aveva detto Roger, e nello spazio che le si aprì davanti infilò gli stivali e i gambali. Poi ebbe un ripensamento, prese l'aletiometro e lo ficcò nella più profonda delle tasche del giaccone, prima di sistemare anche quest'ultimo lì dentro. Saltò giù, rimiese a posto l'armadietto e bisbiglio a Pantalaimon. Dobbiamo far finta di essere stupidi fino a quando non ci vedrà. E poi dire che siamo stati rapiti. E soprattutto niente a proposito dei giziani o di Jorek Burninson. Perché ora Laira si rendeva conto, se ancora non l'aveva fatto, che tutta la paura di cui era capace, per natura, gravitava verso la signora Colter, come l'ago di una bussola e attirato dal polo. Tutte le altre cose che aveva visto, anche l'orrenda crudeltà dell'intercisione, le poteva affrontare. Si sentiva forte a sufficienza. Ma il pensiero di quel viso dolce, l'immagine di quella dorata scimmia giocherellona, era sufficiente a farla impalidire, a farle sciogliere lo stomaco, a farla sentire male. Però i giziani stavano arrivando. Pensa a questo, pensa a Jorek Burninson. E non lasciarti scoprire, si disse. E si diresse di nuovo verso la mensa, da cui proveniva un gran rumore. I bambini si stavano mettendo in coda per prendere qualcosa da bere, alcuni con ancora addosso i giacconi di carbonseta. Non parlavano d'altro che dello Zeppelin e dei suoi passeggeri. «Era lei con quel suo scimmiotto daimon? Ti ha acchiappato lei anche a te? Ha detto che scriveva a mio padre e alla mia mamma, e ci scommetto che non l'ha mai fatto. Mica ce l'ha detto che ci ammazzavano. Questo non ce l'ha mica detto quella. Quello scimmiotto è lui peggiore, ha acchiappato la mia carossa. E a momenti me l'ammazzava. Mi sono sentito tutto indebolito. Erano spaventati quanto lei era. Lei trovò Anne e le altre, e si sedette con loro. Sentite, disse. Lo sapete tenere un segreto? Certo! I tre visi si rivolsero verso di lei, accesi e pieni di aspettativa. «C'è un piano di fuga», disse piano Laira. «C'è della gente che è venuta qui per portarci via, no? E saranno qui più o meno entro un giorno, forse anche prima. Tutto quello che dobbiamo fare noi è tenerci pronti. Appena arriva il segnale, dobbiamo subito correre a prendere i nostri vestiti pesanti e uscire fuori, senza aspettare e senza perdere tempo. Bisogna correre e basta. Solo che se non prenderete i giaccone e i stivali e tutto il resto, morirete di freddo». «Qual è il segnale?» chiese Anne. «L'allarme è antincendio, come oggi pomeriggio. È tutto organizzato. Tutti i ragazzi devono saperlo, e nessuno dei grandi. E soprattutto non lei». I loro occhi brillavano di speranza e di eccitazione, e per tutta la mensa all'intorno stava venendo passato il messaggio. Leira si accorgeva che l'atmosfera era cambiata. Di fuori i bambini erano stati pieni di energia e di voglia di giocare. Poi, quando avevano visto la signora Colter, avevano cominciato a ribollire istericamente di paura repressa. Ma ora c'erano controllo e scopo nelle loro chiacchiere. Leira si stupì dell'effetto che poteva avere la speranza. Lei guardò attraverso la porta aperta, ma stando attenta, perché c'erano delle voci adulte che si avvicinavano, tenendosi pronta ad abbassare la testa. E poi, per un attimo, fu visibile la signora Colter, in persona, che lanciò verso all'interno uno sguardo e un sorriso a quei bambini felici, con le loro bevande calde e i loro dolci, tutti quanti a calduccio e ben nutriti. Un lieve brivido corse quasi istantaneamente per tutta la mensa, e ognuno dei bambini rimase fermo e in silenzio fissandola. La signora Colter sorrise e si allontanò senza una parola. Poco alla volta ripresero le chiacchiere. Leira chiese, dov'è che vanno a parlare fra di loro? Probabilmente nella sala delle conferenze, disse Annie. Una volta ci hanno portato lì, disse, intendendo lei e suo Daimon. C'erano una ventina di persone grandi laggiù, e uno di loro stava facendo una lezione, e a me mi toccò star lì e fare quello che mi diceva lui, tipo vedere fino a dove poteva allontanarsi i miei ochirinion. E poi lui mi ipnotizzò e fece delle altre cose. È una stanza grande con un sacco di sedie e tavoli. È una piccola piattaforma rialzata. Sta dietro a quell'ufficio sul davanti. E scommetto che loro faranno finta che l'esercitazione antincendio si è andata benissimo. Scommetto che hanno paura di lei, proprio come noi. Per il resto della giornata, Leira rimase con le altre ragazze, osservando, parlando poco, confondendosi nel mucchio. Ci fu la ginnastica, ci fu il cucito, ci fu la cena, ci fu la ricreazione nel salone. Uno stanzione male in arnese, con dei giochi da tavolo, un po' di libri rovinati e un tavolo da ping pong. A un certo punto Leira e gli altri si resero conto che ci doveva essere in corso un qualche tipo di sotterranea emergenza, perché gli adulti correvano avanti e indietro o si riunivano in gruppi ansiosi parlando urgentemente fra loro. Leira pensò che avesse scoperto la fuga dei Diamond e si stessero chiedendo come fosse potuto succedere. Però non vide la signora Colter e questo fu un sollievo. Quando venne l'ora di andare a dormire, si rese conto che doveva rivelare il suo segreto alle altre ragazze. Sentite, disse, capita mai che vengano qui a controllare se stiamo dormendo? Si affacciano una volta sola, rispose Bella, ma si limitano a dare un'occhiata, con una lanterna, non è che guardano sul serio. Bene, perché voglio andare a dare un'occhiata in giro. C'è una strada che passa attraverso il soffitto, me l'ha fatto vedere quel ragazzo. Si spiegò meglio e, ancora prima che finisse di parlare, Annie disse, vengo con te. No, meglio di no, perché sarà più facile se manca una persona sola. Voi potete dire che stavate dormendo e non sapete dove sono andata. Ma se vengo con te, più facile che ci prendano, disse Leira. I due Diamond si stavano fissando. Pantalaimo in forma di gatto selvatico, Chirillion, quella di Annie, in forma di volpe. Erano rigidi e tremanti. Pantalaimo emise piano un sibilo leggero e scoprì i denti, e Chirillion si voltò da un'altra parte e prese a lisciarsi il pelo con indifferenza. Va bene allora, disse Annie rassegnata. Era del tutto normale che i litigi fra bambini fossero risolti dai loro Diamond in questo modo, in cui uno accettava il dominio dell'altro. I loro umani prendevano atto del risultato senza risentimenti, nel complesso, e quindi Leira era certa che Annie avrebbe fatto quel che le chiedeva. Tutte contribuirono offrendo qualche articolo di vestiaro da mettere sotto le coperte per imitare la forma di Leira nel letto, e giurarono di dire che loro non sapevano niente. Poi Leira origliò dalla porta per accettarsi che non stesse arrivando nessuno. Saltò su un mobiletto, spinse il pannello del soffitto e si tirò su. State solo attente a non dire niente, bisbigliò ai tre visi che la stavano osservando. Poi rimise dolcemente a posto il pannello e si guardò intorno. Si trovava accoccolata in uno stretto passaggio metallico, sorretto da un'intelaiatura di travi e puntoni. I pannelli del soffitto erano lievemente translucidi, così che un po' di luce filtrava dal basso. A quel fioco lume, Leira poteva vedere che quello spazio ristretto, appena un po' più di mezzo metro di altezza, si stendeva intorno a lei in tutte le direzioni. Era pieno di tubi e condutture di metallo. E per decisi, in mezzo sarebbe stato facilissimo, ma purché rimanesse sulle strisce di metallo ed evitasse di posare il suo peso sui pannelli. E sempre che riuscisse a non far rumore, avrebbe potuto muoversi da un capo all'altro di tutta la stazione. «È proprio come se fossimo tornati al Jordan, pan», bisbigliò, a sbirciare nel salotto privato. «Se non l'avessi fatto, niente di tutto questo sarebbe successo», bisbigliò lui di rimando. «Quindi tocca a me rimediare, no?» Cercò di orientarsi, individuando approssimativamente la direzione in cui doveva trovarsi la sala delle conferenze, e poi si mise in moto. Fu un viaggio tutt'altro che facile. Le toccava muoversi a quattro zampe, perché lo spazio era troppo poco, anche solo per stare accucciata, e ogni tanto doveva appiattirsi per passare sotto una grossa conduttura quadrata, o passare sopra un tubo di riscaldamento. I canali metallici sopra i quali strisciava seguivano a quanto pareva la sommità delle pareti divisorie, e fino a che rimaneva su di essi sentiva sotto di sé una confortante sensazione di solidità. Però erano molto stretti e taglienti ai margini, tanto che ci si sbucciò contro le nocchie delle dita e le ginocchia, e non ci volle molto perché cominciasse a sentirsi tutta dolorante, rattrappita e impolverata. Però sapeva all'incirca dove si trovava, e riusciva a vedere la massa oscura dei suoi abiti di pelliccia, che le sarebbe servita per orientarsi al ritorno. Poteva capire se una stanza era vuota dal fatto che i pannelli del soffitto erano bui, e ogni tanto sentiva delle voci dal basso, e si fermava ad ascoltarle. Ma erano solo i cuochi della cucina, o le infermiere in quella che Laira, abituata al Jordan, chiamava fra sé la loro sala comune. Non stavano dicendo nulla di interessante, e quindi lei proseguì. Infine arrivò nella zona in cui, secondo i suoi calcoli, doveva trovarsi la sala delle conferenze, e c'era tutta una zona libera dalle tubature, con i condotti dell'aria condizionata e del riscaldamento raggruppati a un'estremità, e in cui tutti i pannelli di una vasta area rettangolare erano illuminati in modo uniforme. Accostò l'orecchio al pannello, e sentì un mormorio di voci adulti e maschili, e così si rese conto di aver trovato il posto giusto. Ascoltò attentamente, e quindi si spostò avanzando con grande attenzione centimetro dopo centimetro, per avvicinarsi il più possibile a coloro che stavano parlando. Poi si mise lunga distesa sopra il canale metallico, e sporse il capo lateralmente per ascoltare il meglio possibile. Ogni tanto sentiva un tintinio di posate, o il suono del vetro che urtava il vetro mentre veniva versato del liquido, e quindi dovevano essere occupati a cenare e conversare insieme. Le voci erano quattro, le parve compresa la signora Colter. Gli altri tre erano uomini. Sembrava che stessero discutendo della fuga dei daimon. Ma chi è l'incaricato della supervisione di quella sezione? Disse la voce dolce musicale. della signora Colter. È uno dei dottorandi. Si chiama McKay. Disse uno degli uomini. Ma ci sono dei meccanismi automatici per impedire che succeda questo genere di cose. Non hanno funzionato? Disse lei. Sì, invece, signora Colter, se mi permette. McKay ci assicura che è chiusa a chiave tutte le gabbie quando ha lasciato l'edificio alle ore 11 e 00 di oggi. La porta che dà sull'esterno, ovviamente, non avrebbe mai potuto essere aperta comunque, perché lui è entrato uscito da quella interna, come fa di solito. C'è un codice che va immesso nell'ordinatore che controlla la serratura e la sua memoria registra che lui lo ha fatto. In caso contrario si attiva un segnale d'allarme. Che però non si è attivato, disse lei. Si è attivato regolarmente. Sfortunatamente ha suonato mentre tutti erano all'esterno, impegnati nell'esercitazione antincendio. Però, quando siete rientrati, purtroppo tutti e due gli alarmi sono sullo stesso circuito. Questo è un errore di progettazione che bisognerà rettificare. Ciò vuol dire che quando la campana antincendio è stata spenta dopo l'esercitazione, è stato spento anche l'allarme del laboratorio. Anche così ce ne saremmo accorti. Dati i normali controlli che dovrebbero aver luogo dopo ogni avvenimento fuori dall'ordinaria routine. Ma a quel punto, signora Colter, era arrivata inaspettatamente lei. E se si ricorda, ha chiesto specificatamente di incontrare subito i personali di laboratorio della sua stanza. Di conseguenza nessuno è ritornato nel laboratorio ancora per un po' di tempo. «Capisco», disse la signora Colter, con freddezza. «In tal caso, i Diamond devono essere stati liberati durante la stessa esercitazione antincendio». «E questo allarga la lista dei sospetti fino a includervi tutti gli adulti della stazione. Avete preso in considerazione questo fatto? E lei ha preso in considerazione la possibilità che possa essere stato uno dei bambini?» chiese qualcun altro. Lei rimase in silenzio. E il secondo uomo continuò. «Ognuno degli adulti aveva il suo compito da eseguire, e ognuno di questi compiti era tale da richiedere tutta la sua attenzione. E tutti quanti i compiti erano stati eseguiti. Non c'è nessuna possibilità che sia stato qualche membro del personale ad avere aperto quella porta. Nessuna. Quindi o è proprio arrivato qualcuno dall'esterno con intenzione di farlo, o uno dei bambini è riuscita a trovare il modo di arrivare fin laggiù, aprire le porte e le gabbie e ritornare davanti all'edificio principale». «E cosa state facendo per indagare?» disse lei. «No, ripensandoci preferisco che non me lo dica. La prego di comprendere, dottor Cooper, che le mie critiche non sono dettate da ostinità o malevolenza. Dobbiamo assolutamente esercitare una straordinaria attenzione. È stata una mancanza atroce lasciare che tutti e due gli allarmi si trovassero sullo stesso circuito. E questa è una cosa che va corretta immediatamente. Forse l'ufficiale tartaro che comanda la guarnigione può contribuire alle vostre indagini? Lo dico solo come una possibilità. Dove si trovavano i tartari nel corso dell'esercitazione, già che ci siamo? Ci avrete già pensato, immagino». «Sì», rispose l'uomo stancamente. «La guarnigione era interamente occupata nel servizio di pattuglia, fino all'ultimo uomo. I loro registri sono davvero meticolosi. Sono certa che state facendo del vostro meglio», disse lei. «Beh, comunque è andata così, ma per ora basta con questo argomento. Mi dica del nuovo separatore». Leira sentì un brivido di paura. C'era solo una cosa che quella parola poteva significare. «Ah, guardi», disse il dottore, sollevato dal cambiamento di argomento della conversazione. «Si tratta di un reale passo in avanti. Con il nostro primo modello non siamo mai riusciti a superare il pericolo che paziente morisse in seguito allo shock. Ma ormai, su questo, siamo arrivati infinitamente più avanti. «Gli screlling lo facevano meglio a mano», disse un uomo che fino ad allora era stato in silenzio. «Secoli di esperienza», disse l'altro. «Ma per qualche tempo l'unica opzione disponibile era quella di una pura e semplice separazione a strappo», disse quello che aveva parlato per la maggior parte del tempo, a prescindere da quanto ciò potesse risultare stressante per l'operatore adulto. Se si ricorda, abbiamo dovuto scartare un bel po' di personale per motivi legati all'ansia da stress. Ma il primo grosso passo in avanti è stato l'uso dell'anestesia combinata con lo scalpello ambarico MEISTAT. In tal modo siamo riusciti a ridurre la mortalità da shock operatorio al di sotto del 5%. «E il nuovo strumento?» Laira stava tremando. Il sangue le ronzava nelle orecchie e Pantalaimon si stringeva forte in forma di ermellino contro un fianco bisbigliandole. «Sta zitta, Laira, non lo faranno mai. Non li permetteremo di farlo». Sì, è stata una curiosa scoperta fatta dallo stesso Lord Asriel a darci la chiave per il suo nuovo metodo. Lui ha scoperto che una lega di manganese e titanio ha la proprietà di isolare il corpo dal suo daimon. «A proposito, che ne è di Lord Asriel al momento?» «Voi forse non l'avete saputo», disse la signora Colter. «Lord Asriel è stato condannato a morte, ma l'esecuzione della sentenza è stata sospesa». Una delle condizioni del suo esilio a Svalbard era che lui rinunciasse interamente a ogni lavoro filosofico. sfortunatamente lui è invece riuscito a procurarsi libri e materiali e con le sue eretiche ricerche si è spinto a un punto tale, che sta materialmente diventando pericoloso, lasciarlo vivere. Comunque pare che la Corte Concistoriale di Disciplina abbia cominciato a dibattere la questione della sua sentenza capitale, ed è probabilmente che verrà eseguita. Ma torniamo al suo nuovo strumento, dottore. Come funziona? Ah sì, sentenza capitale ha detto. Dio mio, mi dispiace. Il nuovo strumento. Al momento stiamo studiando ciò che accade quando l'intercisione viene praticata con i pazienti in stato di consapevolezza. E ovviamente farlo con il processo Maestad sarebbe impossibile. Così abbiamo sviluppato una sorta di ghigliottina. Immagino che si potrebbe chiamarla così. La lama è fatta appunto di lega di manganese e titanio, e il bambino viene posto in un compartimento, una sorta di piccola cabina, di rete a maglia fitta, della stessa lega, e il daimon in un altro analogo compartimento, collegato al primo. Fino a che esiste un qualche collegamento, ovviamente il legame resta intatto. Poi viene fatta calare la lama fra i due compartimenti, e il legame viene reciso di colpo. A quel punto i due sono due entità separate. Mi farebbe piacere vederlo, disse lei. Spero presto, ma ora sono stanca. Penso che andrò a letto. Domani voglio vedere tutti i bambini. Troveremo chi è stato ad aprire quella porta. Vi fu un rumore di sedi spinte all'indietro, espressioni cortesi, una porta che si chiudeva. Poi Laira sentì gli altri tornare a sedersi e riprendere a parlare, ma più tranquillamente. Ma cosa sta combinando Lord Asriel? Io credo che si sia fatta un'idea completamente diversa in merito alla natura della polvere. Il punto è proprio questo. Si tratta di una cosa profondamente eretica, capisci? E la corte concistoriale di disciplina non può permettersi di tollerare interpretazioni diverse da quelle autorizzate. Lui, per di più, vuol fare degli esperimenti. Esperimenti con la polvere. Shhh, non così forte. Credi che lei farà un rapporto sfavorevole? No, no, secondo me sei stato molto bravo a trattare con lei. È il suo atteggiamento che mi preoccupa. Poco filosofico vuoi dire. Esattamente, un interesse personale. Non mi piace dover usare questi termini, ma mi sembra quasi macabro, vampiresco. È una parola un po' forte, ma ti ricordi del primo esperimento, come raccanita nel voler rivedere mentre venivano strappati via? Laira non riuscì a impedirselo. Le sfuggì un breve grido, e al tempo stesso ebbe un brivido spasmodico, e urtò con un piede un puntello. Cos'è stato? Il soffitto. Presto! Un suono di sedia allontanata in fretta, piedi in corsa, un tavolo trascinato su pavimento. Laira cercò di scarpar via, ma lo spazio era talmente poco che non riuscì a fare più di un paio di metri prima di veder saltare all'insù il pannello del soffitto accanto a lei e trovarsi a fissare un viso maschile, stupito e allarmato. Era tanto vicino che poteva distinguere ogni singolo pelo dei suoi baffi. Non era meno spaventato di lei, ma godeva di una maggior libertà di movimenti, e quindi riuscì a infilar dentro una mano e ad afferrarla per un braccio. Una bambina! Non lasciarla andare! Laira affondò i denti in quella grande mano lentigginosa. Lui gridò, ma non la lasciò andare, neppure quando cominciò a sanguinare. Pantalaimo ringhiava e sputacchiava, ma non servì a nulla. L'uomo era molto più forte di lei, e continuò a tirarla fino a che non la costrinse a lasciare andare il puntello cui si era aggrappata, e la trascinò quasi facendola cadere dentro la stanza. Lei continuò a non emettere alcun suono. Uncinò le gambe attorno al metallo tagliente, sopra di lei, e lottò, a testa in giù, a graffi, morsi, pugni e sputi, appassionata e furiosa. Gli uomini ansimavano, e sbuffavano, per il dolore e lo sforzo, ma continuarono a tirarla senza sosta verso l'interno. Ed improvviso Laira perse completamente le forze. Era come se una mano straniera si fosse inserita fin dentro di lei, in un punto dove nessuna mano poteva mai avere il diritto di giungere, per dare uno strappo violento a qualcosa di profondo e prezioso. Si sentì debole, stordita, nauseata, disgustata, tutta inflacidita dallo shock. Uno degli uomini aveva afferrato Pantalaimon. Aveva stretto i daimon di Laira nelle sue mani umane, e il povero Pan stava tremando, quasi impazzito per l'orrore e il disgusto. La sua forma di gatto selvatico, la pelliccia, era opaca per la debolezza, ora carica di scintille ambariche d'allarme. Si chinò verso Laira, mentre lei tendeva entrambe le mani verso di lui. Dovettero star fermi. furono catturati. Lei sentiva quelle mani, ma non era permesso. Non si doveva toccare. Sbagliato. Era sola? Un uomo stava controllando lo spazio del controsoffitto. Sembra di sì. Chi è? La nuova. Quella che i cacciatori samoyedi? Sì. Non pensate che sia stata lei, i daimon? Potrebbe benissimo essere, ma non da sola, di certo. Dobbiamo dirlo. Secondo me questo potrebbe chiudere tutta la faccenda. Non credi? Sono d'accordo. Meglio che lei non ne sappia proprio niente. Ma a questo punto cosa facciamo? Non può mica tornare con gli altri bambini? Impossibile. C'è solo una cosa che possiamo fare, mi sembra. Ora? Bisogna. Non possiamo aspettare fino a domani mattina. Lei vuol guardare. Possiamo farlo da soli. Non c'è bisogno di convolgere nessun altro. L'uomo che pareva essere a capo degli altri, quello che non stava stringendo né Laira né Pantalaimo, si batte sui denti con l'unghia del pollice. I suoi occhi erano estremamente irrequieti. Non stavano mai fermi. Si muovevano, si spostavano, dardeggiavano di qua e di là alla fine a noi. Subito, va fatto subito, disse. Altrimenti questa parlerà. Lo shock glielo impedirà, se non altro. Non si ricorderà più chi è. Né tantomeno quello che ha visto e sentito. Venite. Laira non riusciva neanche ad aprir bocca. Faceva fatica a respirare. Dovete lasciarsi trasportare di peso per tutta la stazione, per bianchi corridoi vuoti. Al di là di ambienti ronzanti di forza ambarica. Oltre ai dormitori dove i bambini dormivano con accanto il loro daimon su cuscino, che sognavano gli stessi sogni, e a ogni singolo secondo del percorso lei guardava Pantalaimo, e lui cercava di raggiungerla. E i loro occhi non si lasciavano mai. Poi una porta si aprì, per mezzo di una grossa ruota, un sibilo d'aria, e una camera brillantemente illuminata di mattonelle bianche, abbaglianti e acciaio inossidabile. La paura che provava era quasi una sofferenza fisica. Era anzi un dolore fisico, nel momento in cui spingevano lei e Pantalaimo verso una grossa gabbia di fitta rete, color argento pallido, sopra la quale pendeva una grande lama d'argento pallido, pronta a calar per separarli per sempre, per sempre. Alla fine ritrova la voce e urlò. Il suono riccheggiò con forza dalle superfici scintillanti, ma la pesante porta si era chiusa, sibilando. Poteva gridare e gridare per tutta l'eternità, e non in minimo suono ne sarebbe sfuggito. Ma Pantalaimo, in risposta, era riuscita a divincolarsi da quelle mani odiose. Era un leone, un'aquila, li assalì con artigli feroci, con grandi ali dal battito selvaggio. E poi fu un lupo, un orso, una puzzola, e si slanciava, ringhiava, colpiva, in una successione di trasformazioni troppo veloce per tenerle dietro. E tutto il tempo balzava qua e là, volava, schivava da un punto all'altro, mentre le loro mani si allungavano goffamente a flagellare l'aria vuota. Però anche loro avevano il loro daimon, ovviamente. Non erano due contro tre, erano due contro sei. C'erano un tasso, un gufo e un babbino altrettanto decisi, anche loro, a bloccare Pantalaimo. E l'aira continuò a gridare verso di loro. Perché? Perché anche voi fate questo? Aiutateci! Voi non dovete stare dalla loro parte! Anche lei scalciò e morse più decisamente che mai. Finché l'uomo che la teneva non dovete riprendere fiato e lasciarla andare per un momento. E lei fu libera. E Pantalaimo balzò verso di lei come una scintilla di un fulmine. E lei se lo strinse al petto ardente. E lui le affondò nella carne le sue unghie di gatto selvatico. E ognuna delle punte di quel dolore fu cara al suo cuore. «Mai! Mai! Mai!» gridò lei. E si mise con le spalle al muro, pronta a difenderlo fino alla morte. Ma quelli tornarono a gettarlesi addosso. Tre uomini grandi e grossi e brutali. E lei era solo una bambina, atterrita e sotto shock. E le strapparono Pantalaimo e la gettarono in uno dei due compartimenti delle gabbie di rete metallica. E misero lui, che ancora cercava di lottare, dall'altra parte. C'era una barriera di rete a maglia fine, fra di loro. Ma lui faceva ancora parte di lei. Erano ancora uniti. Per ancora un secondo o poco più, era ancora la sua anima, la cara e unica anima sua. Più forte dell'anzimare degli uomini, più forte dei suoi stessi singulti, più forte dell'alto selvaggio ululato del suo daimo, l'aera sentì un suono ronzante e vide un uomo, ancora sanguinante dal naso, azionare una batteria di interruttori. Gli altri due alzarono lo sguardo e i suoi occhi seguirono i loro. La grande pallida lama argentata saliva piano, riflettendo la luce brillante. L'ultimo momento della sua vita di essere completo sarebbe stato di gran lunga e peggiore. Ma che cosa sta succedendo qui dentro? Una voce leggera musicale, la voce di lei. Tutto si fermò. Cosa state facendo? E chi è questa bambi? Non riuscì a completare la parola bambina, perché proprio in quell'istante riconobbe l'aera. Attraverso il velo delle lacrime di l'aera la vide barcollare e aggrapparsi a un bancone. Il suo viso, così bello, così composto, si fece di colpo stravolto d'orrore. L'aera, bisbigliò. Lo scimmiotto dorato si mosse un lampo dal suo fianco e tirò fuori Pantalaimon dalla gabbia di maglia metallica, mentre anche l'aera cadeva fuori dalla sua. Pantalaimon si liberò dalle zampe sollecite della scimmia e si lanciò incespicando fra le braccia di l'aera. «Mai, mai!» disse il suo respiro nella sua pelliccia e premette il suo cuore affannato contro il proprio. Si tennero abbracciati come sopravvissuti di un naufragio, approdati tremanti su una costa desolata. Confusamente sentì la signora Colter parlare agli uomini, ma non riuscì neppure a interpretare il tono della sua voce. E poi stavano lasciando quella stanza odiosa. E la signora Colter la stava portando, un po' reggendola e un po' spingendola, lungo un corridoio. E poi vi fu una porta, una stanza da letto, un profumo nell'aria, una morbida luce. La signora Colter la depose dolcemente sul letto. Il braccio di l'aera era stretto attorno a Pantalaimon, con tanta forza che tutto il suo corpo tremava nello sforzo. Una mano tenera le accarezzò la testa. «Mia cara, mia cara bambina!» disse quella voce dolce. «Ma come hai fatto a finire quassù?» Fine capitolo, ci vediamo al prossimo video.